Buongiorno per un altro video, no non sono diventato cieco Questo l'ho preso a manchester, infatti oggi sarà un video haul sullo shop che l'ho fatto a manchester, questi un pound sono pagati, loro ovviamente sono finti, volevo dire come mi stavano, però vabbè non è che vado a fare il video tutto il tempo con gli occhiali come mi stanno, mi sono anche tagliati i capelli, niente, cominciamo con il video haul, allora ovviamente in Inghilterra non potevo non fare un salato a Primark, infatti tutto il shopping l'ho fatto lì, non so se lo sapete lì veramente costa pochissimo e iniziamo con gli acquisti, allora siccome il tempo era, è uscito anche il sole, però faceva freddo, lo tiravamo in In Inghilterra, soprattutto in Manchester, che stampa la parte più alta, più del nord, tira sempre il vento, beh sempre, la maggior parte del tempo, quando fa freddo fa veramente freddo, quindi sono subito forse ai ripari e mi sono comprato gli snood, che sarebbero le sciarpe queste così, che si usano tantissime, ne ho comprate due, questa l'ho pagata a 5 pounds, una nera, che posso abbinare su tutto, e una così, questa ha anche sempre 5 pounds, poi proseguiamo, questo, questa cup, questo baseball cup, che berretto, questo l'ho pagato 1 pounds e 50, carino, questa, io berretti li uso tantissimo, ne ho tanti, poi qualche giorno farò qualche video un po' sulle mie collezioni, tra berretti, cinture, parlando di cinture, mi serveva una cinta marrone, ho preso questa, l'ho pagata a 4 pounds, ok, finta pelle, intrecciata, va bene, perché più o meno sempre che uso cinture nere, mi serveva qualcosa di differente, fatto tutto quando indosso i jeans, quelli chiari, questa ha 4 pounds, poi ho preso delle cuffiette, le ho provate e funzionano, perché le ho pensato così, erano carine, erano fighe, questo è il pagato dei 6 pounds, dai, sono carini, sono di classica, vabbè, magari li sto comprando pure subito, la musica si sente bene con le mie ipotesi, è un po' grosse, che si allunga così, però dai, 6 pounds, io ho cose care di marca, a me non mi interessa, non mi fregano, non mi frega, quindi non le compro mai, compro sempre cose così, sclausi, anche se si rompono, si calcchia, tanto se lo pagate poco, se si rompono, non mi frega, e poi ho preso questi calzini, che ho pagati 1 pounds e 50, dai sono carini, non mi ricordo come si chiama questo personaggio, 1 pounds e 50, carinissimi dai, un po' da ragazzino però, si calcchia, poi questa t-shirt, che l'ho pagata 8 pounds, traforata, queste sale andavano tantissimo, come l'ho visto ho preso subito, e sa che voglio andare a ballare, con le jeans strappate, perché un giorno vi fai qualche outfit, quindi 8 pounds, ma adesso è figa, c'è il numero 86, che si vede, ed è tutta traforata, poi questa serafino di questo colore, che l'ho indossata a ritorno, quando sono ritornato da Manchester, questa è il contrario, io la serafino l'ho usata tantissimo, invece questo colore non so se è tipo verde, verde male, verde l'acqua, come da chi si chiama, verde per l'olio, questo l'ho pagata 6 pounds, poi, ah, tadaaa, starbucks, ho preso la tassa, la coffee mug, questa quanto l'ho pagata? 6,95, ma carina questa, bevo il mio tè, la mia chissana, scusate, e poi ho preso delle cover, delle custodie per il mio iPhone, questa l'ho pagata, questa 2 pounds e 50, aspetta, no, questa era scontata, sei infatti un pound, questa è la 2,50, ma scontata un pound, e questa 2 pounds, questa è quella delle jelly bean, carina, non si sa ancora vedere cos'è, un calancione così, un calancione di passica, poi un bini, ovvero i berretti di lana, questo l'ho pagato, mamma mia, staccato tutti i cartellini, non mi ricordo più, questo l'ho pagato, sopporto le etichette dentro, mi sembra tipo 4 pounds, anche questo, questo colore un po' viola, vinaccia, bello, poi una t-shirt, questa 4 pounds, che anche l'ho indossata, infatti deve andare in lavatrice, un po' etnica così, carina, sta sopra dei pantaloni beige, sta molto carina, mi manca perché è da lavare, e poi, vabbè alcune cose per Halloween che però non faccio vedere perché poi voglio fare il video sulla maschera di Halloween, ah no, ecco il berretto l'ho trovato, 3 pounds, borgogna, colore borgogna, 3 pounds, poi delle scarpe, queste 16 pounds, queste anche ci sono partite, infatti dei sono l'herci, le ho indossate per ritornare, vabbè, 16 pounds dai, ho dei jeans skinny, di questo colore, che mi mancava questo colore, queste anche le ho indossate a ritorno, con quelle scarpe, ormai a serafino, 16, no, queste 16 pounds, le scarpe 16, queste 10, e poi ho finito, sì, e niente, spero che il video vi sia piaciuto, e allora al prossimo video, ciao!